Ah c'è certo, sì per favore, sì, sì, ok allora, mi prendo tutte le responsabilità, tutte, nessuna esclusa, perché se una squadra si presenta ad un appuntamento così importante come quello di stasera, si presenta col terrore nelle gambe, nella testa e nel cuore e non riesce a esprimersi per come era necessario, significa che l'allenatore non l'ha preparata nella maniera giusta questa squadra, né sul piano psicologico, né sul piano tecnico, né sul piano tattico, ma penso che sia soprattutto una questione psicologica, perciò mi prendo tutte le responsabilità, mi dispiace da morire per tutti gli sportivi italiani, per la federazione, per il presidente, per i giocatori, per tutto, però è evidente che io ho ritenuto che questa squadra potesse fare determinate cose e non l'ho preparata sufficientemente a dovere, evidente, questo è evidente, tutto mi sarei aspettato a meno che stasera la squadra si esprimesse come ha fatto nel primo tempo, lasciamo perdere la reazione del secondo e perciò, ripeto, mi dispiace da morire di chiudere la mia esperienza con la federazione in questa maniera, perché tutto pensavo a meno che questo, non dico che pensavo di vincere il mondiale, di rivincere il mondiale, però di fare sicuramente qualcosa di diverso e perciò, ripeto per l'ennesima volta, me ne assumo completamente la responsabilità di tutto, delle scelte e di come ho presentato questa squadra in queste tre partite. Grandi auguri al mio successore, un in bocca al lupo di cuore e grazie a tutti, anche a voi, di questi quattro anni in parte fantastici, in parte molto molto deludenti. Grazie di nuovo. Adesso se volete farmi delle domande. Benissimo, grazie. Marcello, sì, per favore.